Ciao, sono Chiara Fiocchi di Team Artist e in questo video parliamo di come la riforma del terzo settore impatta sulle associazioni dal punto di vista fiscale. Per prima cosa, come sempre, ti ricordo se non l'avessi ancora fatto di cliccare sul tasto iscriviti sotto a questo video per iscriverti al nostro canale e di cliccare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Per spiegarti questo devo prima spiegarti necessariamente come funziona ad oggi. In questo momento le associazioni hanno la possibilità laddove facciano attività definita commerciale di poter avere appunto la partita IVA che gli permette di emettere fatture appunto laddove svolgano attività commerciale o verso i non soci o per tipologia di attività come per esempio legata alle sponsorizzazioni. Per le associazioni fino ad oggi era previsto un regime fiscale agevolato che era normato dalla legge 398 del 91, una legge che prevedeva appunto un regime agevolato che permetteva quindi alle associazioni sostanzialmente di avere un importante sgravio fiscale e una procedura molto semplificata nella gestione della propria partita IVA. Con la riforma del terzo settore però questo regime purtroppo ai noi viene abrogato, vuol dire che non sarà più valido. La riforma infatti prevede che questo regime non esista più e introduce un nuovo regime fiscale agevolato di cui però non sappiamo ancora nello specifico come verrà declinato perché aspettiamo i cosiddetti decreti attuativi che però non varrà più per tutte le associazioni come invece vale oggi per la 398, ma varrà solo per quelle associazioni che si iscriveranno a registro unico nazionale degli enti del terzo settore. Ci troveremo quindi in una situazione dove sostanzialmente abbiamo tre situazioni diverse. Le associazioni iscritte a registro unico nazionale degli enti del terzo settore con tutta probabilità avranno un nuovo regime fiscale agevolato che probabilmente almeno da quello che oggi riusciamo a leggere all'interno del disegno di legge sarà comunque penalizzante rispetto alla 398, ma per il quale dobbiamo necessariamente aspettare di capire meglio attraverso i decreti attuativi che verranno adottati. Per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti religiosi invece c'è un trattamento differente. Infatti solo ed esclusivamente per loro rimane attiva la 398, quindi solo per questa tipologia di associazione il vecchio regime forfettario rimane ancora attivo. Per tutte le altre associazioni, quindi sostanzialmente le associazioni no profit generiche e tutte le associazioni che non vorranno aderire al registro unico degli enti del terzo settore o che non sono associazioni sportive o enti religiosi, invece non varrà più nessun regime fiscale agevolato. Questo vorrà dire dover gestire tutte le proprie entrate di natura commerciale attraverso una contabilità ordinaria che ha notevoli costi in più e anche notevoli adempimenti in più. Capite bene quindi che questa riforma porta di fatto a una profonda difficoltà per tutta questa tipologia di associazioni, che si troverà quindi a dover decidere come fare e cosa gestire. Questo ovviamente è solo uno dei parametri e una delle nuove condizioni che la riforma introduce, ma probabilmente una delle più significative. Per questo la riforma porta oggi praticamente tutte le associazioni italiane, ad esclusione delle sportive dilettantistiche e degli enti religiosi a dover prendere una decisione e capire che tipo di struttura vogliono dare alla propria associazione per il futuro. Per spiegare questo, quindi per spiegare quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'aderire al nuovo registro unico nazionale, abbiamo scritto un libro. L'abbiamo scritto noi di Team Artist e l'abbiamo scritto cercando di essere il più indipendenti possibili e il più neutri possibili nella valutazione della legge e purtroppo nel momento in cui siamo entrati a leggere nel dettaglio, ad analizzare nel dettaglio tutti i vari commi di una legge estremamente complessa ed estremamente cabillosa, abbiamo comunque capito che questo tipo di riforma è una riforma veramente pesante che ha come obiettivo quello di distruggere un grandissimo numero di associazioni in Italia penalizzandole sempre di più. Per questo abbiamo scritto un libro che si chiama La riforma del terzo lettore fa schifo e lo abbiamo scritto senza paura di dire davvero quello che pensiamo, perché noi non siamo a differenza di molti altri consulenti che parlano di queste tematiche né sostenuti da finanziamenti pubblici né tantomeno abbiamo degli interessi diretti. La nostra indipendenza, la nostra imparzialità è garantita dal fatto che tante associazioni come probabilmente anche la tua ci sostengono, si rivolgono a noi per avere dei servizi e questo ci permette di avere una profonda indipendenza e di poter dire come la pensiamo per davvero. Abbiamo scritto un libro non per avvocati, non per commercialisti, non per professoroni universitari, ma un libro semplice, chiaro, molto accurato, ma di facile comprensione per i presidenti di associazione, perché pensiamo che debbano essere loro in primis a capire oggi quali sono le novità, a capire come la riforma potrà impattare sulla loro organizzazione e a capire anche come la riforma potrebbe uccidere la loro organizzazione. Nel libro trovate anche alcune proposte che noi facciamo per cercare di mitigare gli impatti di questa riforma e che speriamo vogliate ovviamente sostenere. Per acquistare il libro basta seguire il link sotto a questo video e seguire poi tutte le istruzioni per il pagamento. Ci vediamo nel prossimo video, ciao e a presto!